Rossini TV torna ad accendere le sue telecamere sulle segnalazioni di voi telespettatori, riflettori che vengono di nuovo puntati su un luogo non nuovo alle situazioni di degrado, di vandalismo e di abbandono di rifiuti, qual è la pista da skateboard di Villa San Martino affiancata al playground dedicato al compianto arbitro Gianluca Mattioli. Criticità che riemergono periodicamente nell'impiantistica sportiva compresa fra via Togliatti e via Raganini dove da un mese si sono aggiunti anche i danni da maltempo. Un grosso albero infatti franato al suolo dopo l'ultima allerta meteo piegando un lampione, distruggendo una panchina e sradicando parte della ringhiera della pista. Albero che gli è rimasto da allora con un transennamento posticcio scomparso in mezzo ad una pista che vede qua e là rifiuti, calcinacce ovunque e ferri arrugginiti oltre ad una vegetazione incolta che sta tornando la pista stessa. Insomma un impianto che ad oggi resta aperto ai ragazzi che lo frequentano con lo skateboard ma in cui campeggiano per i colivari che non lo rendono più un luogo accessibile in sicurezza.